Noi non ci siamo prestati a nessun tipo di accordo e a nessun tipo di appoggio legato a accordi Senato-Camera. In merito al voto al Senato, il gruppo ha continuato nella sua linea e all'unanimità ha deciso di non votare Schifani. Dentro l'urna il voto è segreto e ognuno ha agito secondo coscienza. Il gruppo nella sua stragrande maggioranza crediamo abbia mantenuto la linea della scheda bianca o in qualche caso scheda nulla o con il nome di Orellana giusto per rimarcare. Qualcuno non ha votato in aula, 4-5 persone adesso non ricordo i numeri, per cui comunque il gruppo ha mantenuto la sua linea, il gruppo del Movimento 5 Stelle. C'è qualcuno che probabilmente nella cabina ha votato secondo coscienza perché non se la sentiva di vedere ripetere l'elezione di una persona come Schifani al Presidente del Senato. Ecco, questo è tutto quello che devo dire. In ogni caso è stata una giornata, una bella giornata perché è stata una bella giornata di confronto dal punto di vista nostro del Movimento 5 Stelle perché ancora una volta abbiamo fatto un percorso che non è stato dettato da logiche né di accordo né da segreterie o da capi ma una logica di condivisione e confronto. Ci siamo confrontati e siamo arrivati alle nostre decisioni insieme. Ecco, non ho altro da aggiungere, non ho altro da aggiungere.